Lotta alla Covid, c'è anche la ricerca dell'università, assegnatamente della Gabriele D'Annunzio. L'importante contributo scientifico è stato inserito nella banca dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli autori, il professor Andrea Ziruolo, ordinario di economia aziendale, i dottori Marco Berardi e Simone Cifollelli. Il lavoro di altissimo livello entra così a far parte di quella letteratura internazionale che si sta adoperando per contrastare operativamente la pandemia. Il professor Andrea Ziruolo. Qual è la razza intanto, il senso? Era quella di far comprendere durante il periodo del Covid-19 come la pubblica amministrazione aveva contribuito al superamento dell'andamento della curva pandemica. e questa ricerca ha spiegato come sono stati sovvertiti i cosiddetti canoni tradizionali della programmazione e gestione della pubblica amministrazione che in una condizione emergenziale ha dovuto navigare a vista, ha dovuto cambiare completamente il proprio modo di agire rispetto alla propria collettività, ha modificato il proprio modo di operare digitalizzandosi, informatizzandosi sempre di più e quindi abbandonando quella circolazione di carta, di burocrazia che prima l'aveva caratterizzata. Un importante contributo scientifico dell'adannuncio inserito nella banca dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è un motivo di grandissimo vanto, di grandissimo orgoglio, no? Beh, noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di caratterizzare il nostro lavoro con l'impegno massimo. Poi ogni tanto ci sono questi riconoscimenti, ovviamente fanno piacere, soprattutto perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha accettato un contributo, in questo caso che riguarda il management, non riguarda la salute e la cura della persona. Quindi un modello gestionale che noi abbiamo rilevato essere anche una soluzione al vecchio modo di operare la pubblica amministrazione. Altro aspetto da rimarcare, in tema Covid lo studio dimostra che non c'è più quella distanza che sembrava siderale tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Il dottor Marco Berardi. Non c'è più grazie a quella che è stata la scelta del governo territoriale, ovvero aprire le porte della pubblica amministrazione anche attraverso la digitalizzazione. Perché per la prima volta, se noi iniziamo ad esempio alla modalità di prenotazione dei vaccini, è stato possibile superare una serie di pratiche consuete dalla pubblica amministrazione, banalizzando la fila al CUP, noi attraverso una prenotazione digitale avevamo l'accesso diretto a un farmaco senza dover poi superare anche quello, significa re-ingegnerizzare il processo della pubblica amministrazione.